Il mondo del panorormale è pieno di entità. Streghe, Bigfoot, The Rake, Alieni. Il mio nome è De Lionel e in questa serie vi mostrerò i filmati più inquietanti e andremo a confermare se tali entità esistono o meno. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Paranormal Mystery. Nel video di oggi vi mostrerò ovviamente un avvenimento accaduto praticamente pochi giorni fa in Cina. Quello che è accaduto è che praticamente è stato visto un effetto in cielo a basso un sastrano. Che praticamente quello che si è visto è che praticamente il cielo per varie ore, alcuni vanno addirittura per un giorno e anche di più, era totalmente tinto di flosso. Molti hanno pensato e hanno definito che questo avvenimento potrebbe essere un fatto paranormale. C'è un effetto apocalittico, visto che stiamo vivendo un periodo di guerra, molti pensano che potrebbe essere un segnale della fine del mondo. Infatti diciamo che molti studiosi e molti scienziati hanno cercato di dare spiegazione a tutto ciò. Infatti in parte si è pensato al comunemente vento del caldo dell'Africa, lo scirocco, c'è il vento della Saga del Sahara. Però nei video in questione che vedete tra poco, perché c'è solamente un video a riguardo, il cielo è praticamente, non dico pulito, sereno, ma un po' nuvoloso. Però ripeto, l'ambiente è comunque visibile, quindi non è offuscato come se ci fosse praticamente sabbia, tipo il vento, lo scirocco. E niente, adesso vi lascio al video e dopo il video ci rivediamo per darvi una spiegazione logica se questo caso è da ritenersi confermato o archiviato oppure sfadato. Ci vediamo tra pochissimi minuti o tra un minuto. De tien. De a, c'è un pa. De a, c'è un pa. De a, c'è un pa. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, eduto il sole per me è stato un olmak poca non c'è nessuno che si è mais questa. Tutto ciò che si è dedicato in Cina Praticamente è spiegabile Si tratta di un'ampliazione della luce Ciò cosa significa? Che praticamente a caso della presenza di molte nuvole basse Ciò ha verificato questa specie di riflessione della luce Di conseguenza tutto il cielo si attende del rosso per varie ore Può bisogna notare che anche nei filmati Il ciò si verifica nel periodo del tramonto Comunemente comunque nel periodo del tramonto In teoria il cielo si dinge un po' di rosso Quindi diciamo che tutto questo fenomeno Non è niente di paranormale Ma non è niente neanche di allarmante Di fine del mondo Ma è una cosa naturale e normalissima Quindi posso ritenere E possiamo ritenere che comunque questo caso Alla fine è sfatato Va bene, se questo video vi è piaciuto Mi dà ciò mi piace E noi ci vediamo alla prossima Ciao